E' una telecamera che loro hanno messo Cioè che punta sulla vostra porta? Che punta sulla nostra porta e loro possono vedere chi entra e chi esce Vabbè follia In questa prima puntata di Afflitti a Milano vi porto all'interno della casa di Chiara Una make-up artist di 22 anni, originaria di Pescara Che paga più di 600 euro per una stanza in zona Villa San Giovanni Ciao Stefano Ciao Prego Che grande è più che la nostra stanza lo sai? 14 metri e quasi Che vederla così tu dici vabbè non sembra male Questo ti faccio così Ah ok per lì si è fatta un po' di muffa cos'è? Sì muffa e non è solo in camera mia ma adesso ti faccio vedere il bagno Aia qui proprio tanta 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 L'avete fatto presente questa cosa? Sì hanno risposto che praticamente noi non ci viviamo dentro al bagno Questa è la cucina per 7 persone quindi? Esatto Questa cappa cioè funziona ma non funziona Cioè? Cioè fa rumore però in realtà non la sping Perché sei qui a Milano? Qual è il tuo vero sogno? Il mio vero sogno è poter vivere del mio lavoro E far stare bene anche la mia famiglia E far stare bene anche la mia famiglia